La parola del Signore, quella del Vangelo di Giacomo, quella che c'è, la lettera di Giacomo e quella del Vangelo di Luca. Maria conserva le parole di Gesù dentro il suo cuore. Maria si erge davanti a noi come una donna silenziosa, avere le mani aperose, la bocca silenziosa, ma il cuore è ripieno dalla parola di Dio. Nella prima vittura l'Apostolo Giacomo ci parla della lingua. Io vedo che un piccolo membro è pure in condizione tutto l'uomo. Dalla nuova esce il bene ed esce il male. La nuova è una piccola cosa in confronto agli altri membri e dire quanto bene e quanto danno la parola di Dio e il fuoco acceso, la lingua, in tante bocche. E poi il fuoco, dice l'Apostolo, dalla gerenda, è il fuoco infernale che esce dalla bocca dell'uomo. E c'è una lingua quando è cativa, quando incendia, quando uccide, prende vigore, prende il suo buco, da una gerenda, cioè dall'inferno, è una lingua che parla malamente, che semina morte, che semina vestiti, che semina ruori, che semina male, è una lingua infernale. E quindi la bocca dell'uomo diventa la bocca dell'interno, o come dice ancora la scrittura, un sepulcro aperto, quando si apre un sepulcro, si va la carne potrefatta, e c'è un trattore, ma si ampe, così è una lingua, così è una bocca di chi parla male. Con la stessa bocca noi benediciamo Dio, con la stessa bocca benediciamo l'uomo. fatta di mangiare di Dio, è un male problema della lingua. E concludo l'Apostolo, che chi sa bene frenare la lingua è l'uomo perfetto, ma chi pensa a frenare la lingua, costruisce, ha ancora molto da faticare e lontano dalla perfezione cristiana. Qual è il male che fa la lingua e qual è il bene che fa la lingua? Con la lingua possiamo fare tanto male. Mi diceva all'inizio che la nostra lingua deve manifestare quello che noi abbiamo nel cuore, e se nel cuore noi abbiamo amarezza, abbiamo cattiveria, la lingua, ma non ci sarà la cattiveria e l'amarezza. Quando vedete parlare un uomo malamente, con l'uomo è cattivero nel cuore, lo dice la scrittura. Prendete la lingua, lo dice la lingua, lo dice il male. del prossimo se ne comincia se ne la discondia non comincia il male tra tanto bene sia anche il male ma la vita non comincia il male e l'uomo si ripete il male e la vita è puntenuta il male quando la lingua si ripeta tutto ciò che dice negativo il rimore l'astio il rancore l'odio quella lingua prende quel fuoco dall'inferno è il diavolo che parla lì è il diavolo che mette sulla tua bocca quelle parole ossia quel fuoco della gianna e noi con la lingua dice l'apostolo possiamo seminare tanto male è come un accendino che cose non vi anniverò in una foresta non vi annivere niente eppure puoi ingegnare eppure puoi ingegnare una palestra e allora continuiamo la lingua direi bene e non direi male la lingua la lingua deve notare Dio e deve notare il prossimo la lingua deve annunciare il bene mettere in chiaro il bene il bello e il vero quando la lingua dice menzogne dice caniglie quella lingua è neapolica perché mia monica perché la caniglia o perché il passo e l'errore anche drammatico viene dal maligno ce lo dice Gesù la tua bocca dica sì sì no no tutto il resto viene dal maligno quante volte la nostra bocca parla nel maligno che parla per la nostra bocca e semina discordie male divisioni semina ogni sorta a volte di di male per cui si può incendiare anche una foresta se una famiglia è una lingua malevola può creare risordie in un gruppo basta una lingua cattiva per creare incendie per seminare male ci sono quelli che hanno gli occhi appuntiti sul male lo vanno cercando quegli occhi lo immagazzino nel cuore e il diavolo può usare le parole e poi la lingua per tutta ed ecco il male basta la lingua per eliminare un gruppo per eliminare una comunità per tutta la vita ecco la potenza della lingua cattiva può distruggere una vita può distruggere una comunità può distruggere una città può distruggere l'emozione ecco la potenza della lingua quando è dominata dalla falsità quando è dominata dall'olio e allora fratelli e sorelle solleviamo la lingua e scriviamo al Signore questa mattina la purificazione delle nostre labbra dobbiamo purificare le labbra quei carboni ardenti quei carboni che ardono sotto le fuori di Dio chiediamo all'ustodafino l'angelo del Signore che con le mone prendo un carboni ardente e lo metto sulla nostra bocca sulle nostre labbra dicevi i primi di semia povero me io mi trovo con le gambe impure in mezzo a un popolo con le gambe impure ed ecco l'angelo prende il carbone e la mente sotto il trono di Dio brucia le labbra e poi dice adesso le due labbra sono pure e tu puoi compiere la tua missione puoi annunciare la parola di Dio abbiamo un po' tutti bisogno di questo fuoco ardente che purifichi le nostre labbra perché le nostre labbra possono annunciare la parola di Dio che è parola che ridica parola che sana parola che contiene la verità e contiene l'amore e contiene la bellezza dalla nostra lingua deve uscire soltanto ciò che è bello ciò che è buono ciò che è vero quando non c'è una cosa che sia bella o sia buona o sia o non sia vera non deve essere detto della nostra lingua della nostra parola e se il gioco è buono bello e vero scende dal cielo e tutto ciò che è brutto che è falso che è cattivo viene dall'agenda se lo dice la scrittura e con la stessa bocca può benedire e può maledire può essere il strumento di Satana e il trumento di Dio anche nel raccoglietene Satana può parlare per la nostra bocca quando produce male è il maligno che parla non siamo noi è il maligno anche il dietro se volete per sapere Gesù deve andare a patire diventa bocca di Satana dopo che era diventato poco tempo prima pochi minuti prima bocca di Dio non la carne e il sangue se l'hanno rivelato Pietro ma il Padre Mio che sta nei cieli avevo confessato la verità di Gesù e che la bocca era la bocca della verità la bocca di Dio e avevo cercato di inserire Gesù dalla passione e della Satana che parlava per bocca di lui ed era un uomo buono siamo molto richiedanti perché non salva dalla gerenna la nostra parola ma scende dall'alto scende dal verbo di Dio che parola la parola che noi diciamo quando non possiamo parlare casiamo e parliamo con Dio ripariamo due cose ed è questa mattina che il Signore ci dice di imparare queste due cose di imparare a parlare e imparare a tacere e imparare a tacere innanzitutto la Madonna si presenta a noi come esempio meraviglioso del silenzio noi siamo amiciati a parlare sempre la nostra riva la nostra è una ruota parliamo continuamente 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 siamo a menire a vento che è sempre una passione e macina 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 frumento dice la scrittura che quando uno parla molto già è stolto perché il mio brutto l'occhio abbonda sulla bocca dell'eccento mentre il sabine e il saggio dice poche parole e poi dice la scrittura che nel molto parlare qualche peccato sempre si scappa per cui chi parla molto sempre dirà qualche cosa che è peccato mentre la scrittura di Gero dice che nel molto parlare non manca il peccato e allora è buona cosa non parlare molto perché deve più o nemmeno o prima o dopo si esce il peccato e imparare a saggere come diceva Gesù il tuo parlare sia sì sì no no il resto viene dal mario e dice ancora la scrittura e Gesù te lo dice di ogni parola oziosa dovete rendere conto a Dio che tratta di parole oziosi parola oziosi dobbiamo rendere conto a Dio di ogni parola oziosa cioè non assegnata non necessaria non opportuna dobbiamo rendere conto a Dio quando poi la lingua va contro il prossimo ne venga la verità o la carità allora si incorre nel pericolo di andare nella genna all'interno Gesù è molto severo con i peccati di lingua e perdona precisamente gli altri ricati e indulgente quindi i peccati della benessia umana ma quando si tratta della lingua Gesù è il giustiziere che parla male del prossimo e sottomesso a giudizione che poi dovreste dire al fratello raca cioè un sgraziato fatura parolaccia che lo offende gravemente va all'inferno e vende dell'inferno noi siamo molto ma molto superficiali a riguardo ecco perché siamo seminatori di morte senza che ce ne accorgiamo che conturbe gravemente il prossimo con la propria lingua e non cosa nel delizio di Dio soprattutto quando noi facciamo i peccati il peccato nella calunnia la calunnia si ha quando noi diciamo il fatto del prossimo o non siamo sicuri di qualche cosa e lo diciamo come sicura oppure quando aumentiamo talmente una cosa che diventa un'altra cosa che è la calunnia se la parvenza della verità o se è una piccola verità ma noi la ingegneriamo tanto la mandiamo tanto che diventa una grande cosa e allora diventa calunnia e la calunnia è peccato mortale la calunnia che fa male al prossimo è peccato mortale peccato contro la verità e contro la carità la demigrazione quando un uomo demigra è una cosa vera è diversa dalla colunnia io sono una cosa vera nel prossimo e la dico all'altro è peccato mortale si va all'interno io ho visto una cosa brutta e soltanto io l'ho vista se io dico e palesa all'altro quello che ho visto e così che mi chiedere il prossimo è peccato mortale e fa peccato mortale chi l'ascolta chi volentieri ascolta chi domanda chi chiede chi volentieri alimenta questo palare cattivo fa peccato mortale chi prenda tra peccato mortale chi ascolta ed è riaccostata la comunione con questo peccato fate sacrilegio peccato su peccato dico queste cose per mettere riserviso perché possiamo raccogliere peccato nella nostra presenza senza accogli di noi quando manchiamo brevemente contro la verità o contro la carità noi siamo rei davanti a Dio e davanti al prossimo perché il prossimo ha diritto alla stima degli altri ha diritto ad essere così rivelito degli altri anche quando va male perché non sia male pubblico e se io vedo il prossimo se tanto più io calmo il prossimo è meglio che mi bere di mezzo per non fare questo male quando poi io con la lingua lo scambialo soprattutto ai piccoli agli ignari a loro dare la parola di Gesù che scambalizza il prossimo sopra tutti quelli che credono in me è meglio per lui che si appenda al collo una macina da morino e si vade a buttare al mare in modo di non morire più a galla e si tolga questa spezza dalla faccia della terra e che Gesù deve dire anche parole dure quando si pratica appunto della lingua perché la lingua ci è stata data per annunciare il bene per annunciare il vero per mettere in risalto le cose belle la lingua è strumento di verità e di bontà la lingua è la parola e la parola è il verbo di Dio il Signore ci ha comunicato la parola perché noi riflettiamo attraverso la parola con noi che è non dobbiamo comunicare con la nostra lingua la parola che è il verbo di Dio è verbo di Dio è verità bellezza fondata dobbiamo imparare a parlare a parlare e di come facilmente eccediamo e così dobbiamo moltiplicare la lingua di sentire e pensare la cosa prima che la fai che bella sai però prima di dire una parola dobbiamo meditarla molte volte perché tante volte la parola non è fortuna bisogna imparare così a parlare al momento opportuno annunciare Dio annunciare l'eredità annunciare l'amore manifestare le protonelle perché gli uomini siano edificati e impariamo a parlare ma per imparare a parlare bisogna imparare attacere chi non sa attacere non può mai parlare bene imparare attacere la parola di Dio deve essere maturata dentro il nostro cuore deve essere in bocca era come agnello condotto al macello come pecora muta di fronte ai suoi totatori e nella prima sua bocca la invidia la regenzia la animarità tutto questo male che dentro il nostro cuore ecco che si pronuncia si appaggia si manifesta in parola e e allora dobbiamo mettere un freno un mozzo alla nostra lingua per non fare dire una parola che che proviene male che si venuti sempre male 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 il suo cuore pieno di dignità gli chiediamo una parola e diciamo sento non è fuori che non è taloglio contro chi si va del male ecco i doni di Cristo ma trattato si lascia emiliare e richiedi di Dio non aprile sua bocca era come andrillo condotto al megello venire condotto al megello ed era mutuo come pecore ammucca di fronte ai tetaponi venivano una lana e faceva e io non apri la sua bocca e Signore Gesù vogliono prendere i denti da te e da Maria nostra madre signore ti chiediamo di imparare la tecere ed aprire la bocca al momento continuo per annunciare la teoria per premere video per invitare gli uomini all'invast e a benedicto a Grazie a tutti.